Fino al 15 gennaio la Biblioteca della Regione di Via Confienza a Torino è allestita alla mostra di presepi Anche qui è nato Gesù, in rassegna un vasto assortimento di presepi provenienti da tutto il mondo e ambientati nei luoghi più strani, selezionati dal collezionista e curatore dell'esposizione Roberto Nivolo. La passione per i presepi nasce a metà degli anni 70 ed è stata una passione scoppiata all'improvviso. Ero in Africa per una ricerca etnografica e su al lago Turkana ho incontrato un missionario che stava preparando un presepe con piccole cose, con cose semplicissime. Mi sono reso conto in quell'occasione che il presepe può avere le forme, le caratteristiche più impensabili ma resta comunque un elemento di unione tra i popoli. Raccogliendo i presepi io ho provato questa, oltre che gioia, questa passione che entrava sempre più lentamente perché mi rendevo conto di come nelle vari posti che tu giravi, nelle varie popolazioni etnie che tu incontravi ognuno a modo suo creava questa natività. E da questo è nata questa raccolta di presepi che oggi ha raggiunto il numero di 750.